Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Johnnyotto, grazie mille per il traguardo che abbiamo raggiunto sul canale. Allora, come vedete sono in stile babbo nataloso perché è dicembre e quindi da qui in avanti, come già detto nel precedente video, farò i video vestito a questa maniera ragazzi. Lo so, abbiate pietà di me, abbiate pazienza, ma è carino, dai, alla fine è simpatia la cosa. Allora, aspetta, mi casca la barba. Allora, tornando a noi, tornando a noi speciale 1000 iscritti, avevo fatto una piccola, diciamo, promessa, avevo fatto una piccola promessa che mi sarei rasato la barba. E infatti ho provveduto subito a comprarne una nuova di scorta perché sai, senza barba ragazzi è qualche anno che non mi ci vedo e potrei avere dei grossi problemi a vedermici. Quindi, detto questo, mi andrò a tagliare la mia povera barbettina qua sotto che, come vedete, è bella nera e scura. Ci ho messo, facciamola vedere, ci ho messo una vita a farmela venire così ragazzi perché poi non la sopporto, da noia, insomma, ci ho messo un po' di pazienza. E adesso diventerà zero, senza barba. Quindi direi, ragazzi, di salutare la mia barbina. Io vi ringrazio di nuovo per questo traguardo che vi avete fatto raggiungere e godetevi questo speciale video iscritti. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Oh, via ragazzi, abbiamo fatto, abbiamo fatto, guarda, ci è voluto un po', insomma, è stata un po' triste la nostra, però, mamma mia, mamma mia, scusate, mi guardo un attimo nel monitor perché veramente mi ci vorrà del tempo ad affiduarmi, ma io infatti mi sono premonito. Come vi dicevo, come vi dicevo prima, almeno, ecco, almeno sembro quasi uguale, un po' più invecchiato magari con la barbina bianca, vado a bere lì nel solo, sto tutto bene. Sono tutto bello e che imbellettato ragazzi. E così, insomma, ragazzi, a parte gli scherzi, avevo promesso che mi tagliavo il barbone, me lo sono tagliato e non c'è più. Madonna, non mi fa strano guardarmi. Marimma Maiala mi fa strano guardarmi, ragazzi. Vabbè, dai, è po' da fare. Tanto momentaneamente siamo vestiti da Babbi Natale, quindi magari è anche più scherzosa la cosa. Il problema è quando poi io mi alzo il cappello che sono pelato anche in testa, cioè, guardate a fare il sole, sono quasi glabro ormai, meno male, ho sopracciglioni, i velli un po' mi salvano. Ragazzi, finite gli scherzi, vi ringrazio ancora di nuovo per... Non è che scherzo, che faccio caffa, faccio caffa davvero. Comunque, vi ringrazio di nuovo per i miei iscritti, speriamo di continuare ad andare avanti così. Vi ricordo, se vi va, visto che ci siamo, di iscrivervi al canale di Johnny Otto Gaming, il canale viola, il signore dei pelati, che presto poi cambieremo nome anche qua. Ma con calma quello. E niente, vi ringrazio tanto ragazzi, un bacione, un abbraccione a tutti. Grazie di nuovo, ci vediamo come sempre nei prossimi video su Johnny Otto Gaming. Faccio caffa, ciao.